Non trasportava solo dolci e spezie da Axon. Nel carico c'era una collana preziosa. Ora capisco perché la bussola ha gettato l'intera nave in pasto ai pesci. Un gran peccato. Chissà quanto valore. Questo porto nasconde tesori sommersi. Già, la corrente è troppo forte per tentare un recupero. Non possiamo che rassegnarci. Ti interessa? Sono un abile nuotatore. Non temo freddo, correnti, né mostri marini. Per la miseria. Allora avrai una ricompensa adeguata per il recupero del carico. Ho trovato un messaggio in una bottiglia. Credo che i pesci abbiano mangiato il tesoro. Un forziere con un tesoro. Un altro con questo messaggio. Spero che si sia conservato bene. Un messaggio in una bottiglia. Furbo. Aveva messo una collana in una mucca. Dovrei pescare per recuperare il resto del tesoro. Un messaggio in una bottiglia. Ma guarda quanto pesce c'è qui. Forza, piccoli codardi guizzanti. Fatevi pescare. Fatevi pescare. e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti